Caponata di cavolfiore, la prima ricetta natalizia creata da intelligenza artificiale. Separate le cimette di cavolfiore. Scaldate un filo d'olio in una padella e unite i cavolfiori. Fateli dorare, poi cuocete, coperti per 15 minuti. Tagliate il sedano e la cipolla e fate abbassire con un filo d'olio. Aggiungete la salsa di pomodoro e cuocete per 3 minuti. Unite i cavolfiori. Aggiungete un bicchiere di acqua e cuocete per 10 minuti. Sciogliete lo zucchero nell'aceto, unite alla caponata e fate evaporare a fiamma vivace. Dividete le olive a metà. Aggiungetele al resto. Spegnete la fiamma e fate raffreddare. Riempite un vasetto di yogurt con la caponata e compattatelo con un cucchiaio. Stampate le stelline nel pane e abbrustolitele in padella. Mettete le stelline sugli stuzzicadenti, sformate e decorate. Belli e pronti.it Abbiamo realizzato i sogni di un computer. Realizziamo anche i tuoi. Vieni a trovarci sul blog.